Oggi voglio fare un video speciale. Visto che questo calce mercato non si muove, abbiamo già parlato tantissimo del calce mercato dei rivali, delle possibili candidati per lo scudetto e quant'altro, oggi voglio dedicare un singolo breve video a una persona e questa persona è Stefano Pioli. Stefano Pioli è l'allenatore del Milan a cui mi sono legato più di tutti nella storia del Milan finora. Premettiamo ovviamente che io ho 28 anni quindi non è che ho visto tutti gli allenatori del Milan dal vivo della storia, della grande storia passata, li conosco per nome ma chiaramente non posso essere mi affezionato a sacchi per dire che sul finale degli anni Ottanta vinceva col suo calcio innovativo in quanto non l'ho visto in diretta. Però qualcuno potrebbe dire ma come più di Ancelotti, no? Carlo Ancelotti è un'icona, una leggenda per il tifo milanista. Sì, ma per un semplice motivo, perché Carlo Ancelotti ha fatto quello che ha fatto con una squadra di campioni. Stefano Pioli è riuscito a fare quello che ha fatto, che è meno di Ancelotti, non ha vinto Champions League, ma è riuscito a vincere lo Scudetto con una squadra di ragazzi che nessuno accreditava per la vittoria finale. E l'ha fatto con una umanità e una passione incredibili. Io mi ascolto sempre volentieri tutte le sue conferenze stampa e sono veramente contentissimo che lui sia l'Aleatore del Milan e mi auguro possa rimanerlo ancora lungo. La cosa più incredibile è che quando questa esperienza è iniziata, era se non ero l'ottobre del 2019, io fui assolutamente contrario a Stefano Pioli. Tant'è che in quel periodo, quando Gianpaolo era sulla graticola dopo poche partite, perché aveva iniziato malissimo quel campionato col Milan, si faceva il nome del sostituto e si ragionava principalmente sul nome di Luciano Spalletti, che ora allena il Napoli. E io pensavo tra me e me in quei giorni, cavolo se prendiamo Spalletti e prendiamo comunque un grande allenatore che ha esperienza, ci può risollevare, uno che può gestire bene questa squadra e sollevarci. Che probabilmente è anche vero, non dico che se fosse arrivato Spalletti avrebbe fatto male, ma quando è stato ufficializzato Stefano Pioli, io ero proprio incazzato. Non avevo ancora il canale YouTube, quindi non ho potuto fare un video a sfogo e nient'altro. Ma ricordo che scrissi su Facebook uno stato del tipo, le esatte parole erano Stefano Pioli, una scelta che trasuda mediocrità. Queste furono le mie parole. Il mio stato su Facebook dell'epoca, tanto ero distrutto, demoralizzato all'arrivo di Pioli, che mi sembrava l'ennesima seconda scelta di un periodo dove il Milan prendeva solo seconde scelte, sia per quanto riguardava gli allenatori che per quanto riguardava i giocatori. Se solo avessi saputo quanto mi avrebbe fatto godere quella seconda scelta. Il bello è che Pioli partì anche abbastanza male con il Milan. Nelle prime giornate ottenne qualche successo risicato, qualche sconfitta, qualche pareggio, fino al rovinoso 5-0 subito contro l'Atalanta. Poi è vero che a gennaio arrivarono Chiere, Ibrahimović e Sele Makers e principalmente per merito di Chiere e Ibrahimović, il Milan inizia a risollevarsi. Però bisogna dare i giusti meriti a Pioli, ragazzi. Perché Pioli, secondo me, sfruttò quei primi mesi dove non fece bene per capire cosa non andava nel Milan. Chiaramente chiese dei rinforzi che poi arrivarono, ma riuscì a lavorare sulla psiche di tutti i calciatori. Pioli disse una cosa importantissima quando arrivò al Milan. Disse, qui sembra che perdere o vincere non faccia alcuna differenza. I calciatori, dopo la partita, sia che abbiano perso, sia che abbiano vinto, sono sempre con lo stesso umore. E questo la diceva lunga su quanto poco spiritogenità c'era in quel Milan, quanto quella squadra fosse una cozzaglia di giocatori che, sì, erano lì dovevano giocare, venivano pagati per farlo, ma non si divertivano a farlo e non gli interessava nemmeno tanto il risultato finale. Cambiò tutto con lui. Certo, indubbiamente ci fu l'esperienza di Ibrahimovic e di Chiar a rimettere in riga i giovani, ma Pioli fu importantissimo. E la cosa più incredibile è che Pioli fu veramente lontano dal Milan in quella stessa estate. Nel 2020 ci fu il Covid, il campionato dei presi in estate e sembrava tutto fatto per Ragnic. Io però lì avevo cominciato a cambiare le mie idee. Mentre tantissimi milanisti, ricordo che erano felici di sapere, arriva Ragnic, gestore, ha fatto bene con l'Ipsia, può essere una persona innovativa che ci farà svoltare e tutto quanto. Io dentro di me vedevo quel Milan post lockdown che inanellò nove vittorie e tre pareggi. Dicevo tra me e me, ma siamo proprio sicuri di voler darvi a Pioli? Alla fine ha dimostrato di iniziare a portare dei risultati. Ok, era solo uno spezzone, però il Milan giocava bene e vinceva. Era una persona sempre a modo nelle interviste, era una persona molto umana. Tutti i calciatori stavano con lui, stavano con il mister e spendevano sempre belle parole per lui. Pensavo, boh, è veramente la giusta scelta a zerare tutto e ricominciare da un nuovo allenatore? Ci penso tanto anche il Milan evidentemente. Alla fine arrivò alla soluzione che no, non era la scelta giusta. Ricordo che lì molti non furono contenti di questa scelta. Volevano Ragnic. Io invece lì avevo già cambiato la mia idea e pensai, sono contento di questa scelta. Voglio vedere Pioli, adesso che ha avuto modo di lavorare, un nuovo anno dall'inizio con la squadra che cosa può fare. E dimostro a tutti che cosa poteva fare. Un Milan che comandò la classifica per metà campionato, poi venne sorpassata da un Inter decisamente più forte. E arrivò alla fine del campionato secondo con 79 punti. O 78, potrei fare confusione. Comunque il risultato è che dalle parti di Milanello non si vedeva dall'alba dei tempi. Il Milan non faceva così tanti punti dall'ultimo anno in cui arrivò secondo dietro la Juventus, l'anno del famoso gol di Montari. E a quel punto nessuno più contrastava Stefano Pioli, nessuno più contestava Stefano Pioli. Anzi, è lì che cominciò ad arrivare il coro Pioli is on fire sulle note di Freedom Desire. E la cosa più fantastica è stata che quel coro Pioli is on fire, tra l'altro postato per la prima volta da Cianoglu il traditore, venne cantato dai tifusi milanisti per buona parte di quella stagione e poi venne cantato dai tifusi interisti per sfottare i milanisti una volta che lì intervense uno scudetto con il Milan secondo. Ma la cosa più bella ancora fu l'anno successivo, cioè quella che abbiamo appena passato, con il Milan che al termine di una fantasia ha cavalcato, vince lo scudetto assolutamente da underdog perché nessuno dava il Milan vincente. E quel coro Pioli is on fire ha inondato tutto quanto il mondo rosso e nero e tutto quanto l'Italia. Io quest'estate vi dico solo che dovunque io sia andato, dovunque vari tornei di bici volley, al mare, a ballare, discoteca, dovunque, quando partiva Freedom Desire, tutta la gente, c'era sempre un gruppo con spigui di persone che faceva partire. Pioli is on fire, sempre! Ed è stato veramente fantastico. Un coro che ci siamo guiduti ancora di più perché l'anno scorso poi gli interisti hanno usato per sfotterci e noi a nostra volta abbiamo detto no, questo è il nostro coro e lo facciamo adesso per festeggiare la vittoria. una vittoria che è stata fantastica, ha diciamo innalzato Pioli a livello dei grandi allenatori della storia del Milan, soprattutto per quello che ha fatto secondo me con la squadra che aveva. Io spero che quest'anno possa riuscire a replicare un'impresa simile o comunque fare un'altra grande stagione e mi auguro possa restare con me ancora a lungo perché veramente la sua storia è passare da due anni e mezzo dal Pioli out che è stato il primo hashtag legato a Pioli quando arrivò sulla panchina del Milan. Arrivò, sì, Pioli che si siede sulla panchina del Milan e il trending topic su Twitter era Pioli out, prima ancora che potesse dirigere un allenamento e due anni e mezzo dopo Pioli is on fire. Da Pioli out a Pioli is on fire. La storia di Stefano Pioli è fantastica e mi auguro che potrà rimanere con noi ancora per tanto tempo. Grande Stefano Pioli, il nostro allenatore.